e tu cosa fai qui da sola? e tu cosa fai qui da sola? e tua nonna chi è? strano non ho sentito di persone con nipoti dalla città e comunque che persona poco gentile a mandarti in giro con una maglia così piccola ascolta più tardi passa da me che farò un'aggiunta alla tua veste ma a parte questo allora chi è tua nonna? soffia ah sei venuta a stare un po' nella casa abbandonata della povera soffia ricordati se in questo periodo avrai problemi o avrai bisogno di qualcosa conta pure su di me hai visto ieri sera nel bosco? mio marito mi ha detto di averle viste si sono rialzate le luci era da anni che non si vedevano cosa si starà risvegliando? non so dici che l'arrivo di quella ragazza abbia portato qualcosa? ieri mio marito ha detto che è stata vista allontanarsi dal paese che sia qua per continuare? zitta! non lo dire neanche sai che è ovunque e ovunque può sentirti speriamo solo che se ne vada presto quella povera ragazza non che sia sua la colpa ma si sta meglio nella serenità sarà? ma era molto tempo che non le rivedevamo speriamo non sia niente ecco arriva buongiorno cara come stai? tutto bene? sei andata vicino al ponte? e ieri notte dove sei uscita? mi raccomando questa volta ascolta stanotte rimani in casa stanotte è la luna piena e per i boschi camminan senza ritegno e senza rispetto le masche coloro che vivon tra i boschi non si sa se son vive o se vive furon e ora camminan tra i vivi morte possono portare sono le streghe che popolano le nostre valli un tempo levavano i figli e su di essi mandavano benedizioni per farli sopravvivere ma spesso i loro contratti erano salati possono maledire una stirpe nessuno più avrà cenno di gioia e vivrà nella miseria e non scordano per il nostro dio non scordano e vivono centinaia di anni aspettando e ricordando ogni momento si dice che alcune abbiano persino dei piedi con zoccoli credi quel che vuoi mia ragazza l'ultima masca lasciò questa vita dieci anni fa da allora il villaggio ha ripreso un'andatura diversa stai attenta a quel che si dice ma soprattutto a quel che succede e questa notte riposa in casa nel caldo letto magari vicino al fuoco stai lontano da boschi e prati a quel che si dice che 100 g